Per cui introduco l'ingegner Pera con la prima relazione sull'uomini e donne, diversità di generi, parità di tutela sul lavoro. Diceva poco fa chi ci ha presentato che la diversità deve costituire una risorsa, così come il sapere, così come l'informare, così come il formare. Dobbiamo metterci in questa ottica. Per il World Economic Forum rispetto alle altre nazioni l'Italia è ancora indietro per la riduzione del gap lavorativo tra i sessi. Su 114 paesi l'Italia è scesa al 74esimo posto nella classifica, era il 67esimo nel 2008. Non è possibile migliorare la salute e la sicurezza delle donne senza tener conto dei problemi di discriminazione sul lavoro e l'Europa ribadisce come sia importante strutturare l'organizzazione del lavoro così da diversificare la programmazione e attuare misure protettive negli ambienti di lavoro. I dati INAIL pubblicati nel 2011 sono molto recenti, mostrano che gli infortuni sul lavoro delle donne sono rimasti sostanzialmente stabili nel 2010. Il calo degli incidenti, l'1 e 9, è da attribuire esclusivamente alla componente maschile che è del 2 e 9, mentre per le donne si registra un lieve aumento. Lo stesso vale per i casi mortali, dove a fronte di una sostanziale stabilità della componente femminile, da 72 morti del 2009 al 70 del 2010, il calo dei casi maschili risulta più consistente, meno 7,2, ossia 981 casi nel 2009 e 910 nel 2010. Per le donne nel settore di attività sono quelli che vi ho indicati e più interessati agli infortuni sono quelli del terziario. Si conferma quindi che il 60% delle morti femminili è da imputare gli infortuni in itinere, che avvengono in genere tra agito casa-lavoro, luoghi di ristoro e viceversa. In generale la legislazione italiana ribedisce sempre che il lavoro, la sua organizzazione e le attrezzature per svolgerlo devono essere concepiti per adattarsi alle persone e non viceversa. Poi diversa l'adattibilità dei mezzi di protezione individuale. Per esempio le maschere e i guanti sono spesso disegnate pensando solo ai maschi e non alle signore. Differenze nelle mansioni lavorative, i maschi sono più soggetti a infortuni, lo vediamo tra poco su un grafico, danni uditivi, tumori professionali, sindrome osteoarticolari, da lavoro muscolare pesante. Tra le donne prevalgono sindrome osteoarticolari, da lavoro ripetitivo, per esempio il tunnel carpale, malattie dell'acute, malattie infettive per insegnanti e personale sanitario, danni alla salute riproduttiva, lo stress dal lavoro di cui vi parlavo prima, iniquità e violenza morale. Secondo studi recenti le donne sono più soggette degli uomini a patologie psichiche correlate a situazioni di stress sul lavoro. depressione, ansia, attacco di panico, anoressia, sono infatti da sempre considerati come una risposta patologica particolarmente femminile ad eventuali difficoltà di vita lavorativa. Chiedo scusa, sono stato un po' affrettato in tutto, ma questo mi toccava. Grazie.